ciao acquario benvenuto in questo nuovo video andiamo a vedere l'oroscopo per il tuo segno zodiacale per il mese di luglio 2022 vedremo i transiti planetari l'astrologia e cosa ci promette cosa ci racconta dopodiché andrò ad interrogare anche le mie carte i miei tarocchi va bene così vedremo un pochino più i dettagli scenderemo un po più nei particolari detto questo ricordati se non l'hai ancora fatto di guardarti il video con l'oroscopo dell'estate 2022 ti lascio il link qui dovrebbe apparire adesso altrimenti in fondo a questo video o giù in descrizione comunque oroscopo estate 2022 acquario e te lo trovi detto che li vedremo un po in generale tutta l'estate ora ci basiamo su luglio allora luglio subito a bomba qui mi fanno vedere un mercurio splendido in gemelli una venere strepitosa in gemelli un marte almeno la prima settimana di luglio ancora favorevole in ariete e un giove strepitoso mega galattico fantastico ultra 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 nel segno dell'ariete tutto questo cosa mi dice mi dice che qui ci saranno tante soddisfazioni tante cose nuove in ballo movimenti spostamenti amicizie novità che arriveranno nella sua vita anche qui fanno vedere a parte la moltitudine di contatti di amicizie di gente che ti gira intorno io non so mica tu combina acquario o tu sei già in ferie poi vedremo con le carte che cosa scegliono perché vedo un monte di gente intorno a te anche se voglio di per te di anche normale detto questo io qui già vedo mare per te ok già vedo mare per te qui c'è un periodo no però senza però per l'acquario come se questo già da un certo periodo di tempo adesso giove già potrebbe ampliare questo discorso ci fosse proprio un rivangare un riguardare un po tutta la propria vita un un giudicarla cioè un fare come si dice o mi viene la parola un resoconto si dice della propria vita no quello che ho fatto quello che non ho fatto e via andare è anche un po un desiderio di tirare un po remi in barca tirare remi in barca nel senso di volersi un po mettere le basi per il lungo termine ecco che si tratti di lavoro che si tratti di rapporti capito c'è un po questo desiderio di lungimiranza di un qualcosa di a lungo termine un voler mettere radici contrariamente a quella che è la natura voglio dire un pochino più libertina libertaria dell'acquario rivoluzionaria ecco invece ora qui c'è un acquario un pochino più non moscio è per l'amor di dio però con gli occhi più sul lungo termine sul futuro su un qualcosa che è duri che mi possa dare una certa stabilità ok e senz'altro qui qualcosa di positivo si arriva è dal tuo circostante sicuramente qui ci saranno delle belle notizie delle cose positive che avverranno ok ti vedo stare bene sicuramente tu ti metti in forma eccetera qui ci sono anche degli spostamenti dei viaggi quindi magari tu direi da qualche parte non credo viaggioni lunghi dall'altra parte di mondo non lo credo non non lo penso anche perché un tu non avresti la possibilità nel senso c'è un qualcosa che si tiene qui indotto sei uno sui che lei comunque ne porta fatto sta capito che qui ecco ma ci può essere anche qualcun altro che viaggia che viene a te che viene da te verso di te ok cos'altro dire va bene un picco se da dire sarebbe a parlare tre giorni ricordati di guardare l'oroscopo dell'estate voglio vedere le carte cosa dicono poi tanto voglio dire la il cielo ce l'ho qui davanti quindi mentre parlo delle carte ovviamente richiamo sempre anche l'astrologia ovviamente allora partiamo dall'interrogare gli oracoli come vedi queste carte le ho create io se ti interessano se vuoi averle trovi le informazioni giù nella descrizione di questo video va bene allora vediamo il mese di luglio 2022 dell'acquario vediamo luglio 2022 per l'acquario vediamo un po luglio 2022 messe di luglio 2022 per l'acquario segno del segno dell'acquario cosa accadrà a queste persone come lo trascorreranno wow guarda questo è bellissimo uscite e divertimenti in compagnia quindi sicuramente qui il divertimento non mancherà quindi uscite eccetera mettiamo le diritte state se non va bene ok allora luglio 2022 per il segno dell'acquario mi rifiuto 10 carte no guarda nemmeno una carta per favore luglio 2022 dell'acquario poi interroghiamo i tarocchi ovviamente ok qualcuno è curioso di sapere luglio 2022 per il segno dell'acquario come trascorreranno il mese di luglio queste persone una grande gioia porta benessere e soddisfazione e non avevamo dubbi di questo con questo giove in ariete allora qui divertimenti senz'altro divertimenti con amici uscite quindi ti vedo andare per locali guarda qua qui c'è anche il sole sarà fatta chiarezza belle belle acquari aiuta ma di belle ora vediamo anche i tarocchi ovviamente quindi qui divertimenti con amici con amico con parenti o chi ti pare insomma qui fanno vedere proprio queste uscite tu potresti avere anche una come si chiama quando uno si ritrova sotto un gruppo d'amici tutti insieme capito quindi qui ti vedi usci ti vedo uscire fare vita sociale sicuramente qui c'è una nuova opportunità che arriverà magari proprio anche sul lavoro oltre che nella sua vita privata qui c'è una grande gioia che ti arriva ok una grande gioia che ti arriva ma anche la chiarezza perché questa carta poi richiama molto il sole vedi la bimba no che che cammina nel sole che cammina nel sole quindi già anche questa parla parla da sé di quello che ti aspetta quindi se tu sei un pochino giù se tu hai tu problemi tu hai le cose insomma qui non ti preoccupare perché insomma le cose si sistemano qui c'è una nuova opportunità anche ti stavo dicendo che arriva ci potrebbero essere dei denari dei soldi che arrivano una soddisfazione sul lavoro che arriva potresti avere una promozione un aumento di stipendio comunque avere una novità molto positiva che ti farà tanto contento acquario sul lavoro capito fammi sapere nei commenti persona solidale qualcuno desidera aiutarti vedi pensa a chi potrebbe essere contattalo quindi se hai bisogno di aiuto cercalo e ti sarà dato guarigione della madre quindi qui ci potrebbe essere proprio la mamma e guarigione del padre onde di prosperità capito proprio la mamma che ti potrebbe aiutare con una somma di denaro per esempio per fare un acquisto per altri motivi questo tu lo saprà se quindi qui ci può essere anche questo ok e non avevamo dubbi ripeto visto questo giove se stila al sole guarda che sono transiti belli quelli che tu hai in atto è acquario capito comunque qui ci possano essere anche dei denari che arrivano delle opportunità che tu avrai che ti si presenteranno se ti ha bisogno d'aiuto di sopporto sicuramente tu ce l'avrai e via andare qui c'è anche una bella soddisfazione da un figlio dei figli insomma figlio figlia che sia vediamo luglio 2022 per l'affario ok prima carta il sole ed è già due volte esce il sole vedi cioè voglio dire qui è tanta roba qui è tanta roba quindi potresti letteralmente prendere tanto sole ovviamente ma qui c'è anche una gioia qui c'è anche una grande soddisfazione la regina di denari poi ti vedo anche splendere sicuramente tu sei anche una bella persona bello o bella che tu sia quindi qui sicuramente anche le persone che noteranno capito ecco il 5 di bastoni il fante di coppe luglio per l'acqua e qui ne sono uscite due questa dritta ma il re era capovolto questo è capovolto e 9 di spade qui tu c'è un giramento di scatole non tutte lo tiri dietro per una persona qui c'è una persona che ti piace assai con cui tu potresti avere anche una fresca nel senso con cui già tu potresti essere in contatto avere un qualche cosa con cui ci può essere anche il lavoro di mezzo ora capisco non è che tutti gli acquari hanno un rapporto con qualcuno sul lavoro o con cui c'è comunque un richiamo di lavoro di un qualche tipo lo capisco fate un pochino voi la tara va bene guarda qui c'è questa persona e boh però una cosa se la posso dire se te tu sei la donna tutte la passerà meglio di lui e l'uomo è comunque qui c'è una preoccupazione c'è un momento molto agitato ti vedo combattere però un qualche cosa che tu vorresti che però non ti viene dato ecco quindi qui bisogna tu trovi in modo di come ti posso dire aiutati che dios aiuta nel senso di goderti le cose belle che ti stanno capitando che ti capiteranno ok e di lasciano di lasciare perdita persona no mi correggo come ti posso dire non badare troppo non farti troppe pippe mentali perché qui come ti posso dire ti vedo come se tu fossi preoccupato come se tu pensassi a questa persona a questa situazione molto spesso capito insomma cerca di goderti le gioie sicuramente della famiglia degli amici e di tantissime altre cose che tu hai e che tu avrà in questo periodo perché sono tutte carte sono tutte carte positive però vedi quello che vedo qui c'è questo re di bastoni che mi è uscito mi è uscito a testa lì in giù con un nove di spada accanto quindi qui si potrebbe mancare particolarmente questa persona nel mese di luglio non so forse perché tu ce la lontana o perché le questa persona che non fa magari non ti cerca non si propone non capito o magari semplicemente siccome c'è il lavoro di mezzo magari una in ferie l'altro no quindi non vivere qui qualcosa c'è ok c'è un qualcosa che l'acquario non lo fa stare tranquillo se non c'è una persona particolare che vi piace potrebbe semplicemente riguardare il lavoro questa preoccupazione il lavoro che non c'è o il lavoro che ce n'è poco che è diminuito capito perché qui vedo anche queste carte però ripeto vedi qui ci sono i divertimenti e le uscite in compagnia quelle non ti mancheranno cioè non ti vedo un mese di luglio lì oddio depressione assolutamente no tutt'altro capito quindi uscite divertimenti il sole qualche spostamento molti contatti e molta comunicazione e via andare aiuti che arriveranno è una grande gioia qui c'è una gioia che ti arriva qui c'è una novità assolutamente positiva e ti farà tanto tanto contento acquario anche perché seguita dal sole quindi qui c'è qualcosa di assolutamente positivo che ti aspetta occhia non prende troppo sole perché qui vedo un bruciare vedo un sole da tutte le parti ma tanto santo santo sole se bella brosa per acquario fammi sapere nei commenti io si vedo già abbronzata è la zerona io invece sono bianca come una vecchia comunque questo è un'altra cosa a farmi o comunque fammi sapere giù nei commenti mi raccomando e non scordare di tornare qua per il mio prossimo video ok ciao acquario eccoci qua vi lascio ai miei vi no